La complicità fra i due coinquilini è palese e in queste ore i due si sono appartati per parlare della loro storia. Ti stai innamorato? chiede Pierpaolo mentre Giulia, visibilmente sorpresa, con un velo di imbarazzo tenta di rispondere. Che domanda? Diciamo che è un processo, ci sto lavorando. Il discorso prosegue e Pierpaolo sembra sempre più insistente. Che ti piaccio è ovvio, ma innamorarsi è diverso. Ma per te cosa è l'amore? chiede Giulia al vippone, che risponde lasciandola senza fiato. Penso a te quando mi sveglio e prima di andare a dormire, ti cerco. Se fossimo fuori vorrei sapere sempre cosa fai, dice Pierpaolo guardando Giulia fissa negli occhi e sorridendole prosegue deciso. Qua ti vedo sempre, fuori sarà più difficile, ma sicuramente lo capiremo meglio. Insomma, nonostante le beghe familiari, la storia tra i due prosegue e in queste ore il vippone ha anche deciso di cambiare look e tagliarsi i capelli. All'interno della casa ormai da più di 4 mesi, Pier ha deciso di scoltire la chioma scatenando la reazione delle inquiline, in particolare quella della sua Giulia, che ha commentato con un sincero, mamma mia che buono.